Agnese Duranti, partiamo dalla cosa più recente, dall'Olimpiade di Parigi. Che gioia e emozione è stata tornare sul podio, un altro podio per voi? Sì, è stata un'emozione immensa perché tornare sul podio olimpico non è mai scontato, anzi è un risultato grandissimo, frutto di tantissimo lavoro, di un gruppo molto forte, coeso e unito, noi insieme al nostro staff, la nostra allenatrice e perciò è stata un'ulteriore emozione e un risultato immenso. Che cosa si prova a partecipare all'Olimpiade anche a salire poi sul podio, a conquistare una metaglia all'Olimpiade? L'Olimpiade è il sogno di ogni atleta, quindi sicuramente partecipare a un'Olimpiade è il coronamento di un sogno che nasce quando sei bambina. Partecipare a due Olimpiadi probabilmente è stato qualcosa di impensabile da un'agnese bambina e diciamo quando mi sono ritrovata di nuovo dentro al villaggio olimpico a Parigi durante le prove pedana sul campo gara di Parigi ho riprovato delle emozioni grandissime, è stata un'esperienza fantastica e la gara ti lascia dentro un qualcosa che non dimenticherai mai, quindi è un'esperienza che ti legherà a quella pedana e a questo sport per tutta la vita. Ne parlavamo a microfoni spenti rispetto all'Olimpiade di Tokyo, è stata tutta altra emozione, è stato totalmente diverso. Il calore del pubblico, ecco come l'hai vissuta tu personalmente e poi a livello di gruppo come l'avete vissuta? Sì esatto, dopo le Olimpiade di Tokyo che è stata un'Olimpiade appunto un po' anomala per il fatto ovviamente del Covid eravamo da sole, nel senso che eravamo sempre comunque noi questo gruppo forte con la nostra allenatrice quindi non ci siamo mai sentite sole perché comunque i nostri parenti ci seguivano da casa ogni momento, in ogni minuto anche alle 4 di notte col fuso orario, però diciamo che Parigi è stato un impatto molto diverso a livello emotivo anche del pubblico quindi sapere che loro erano tutti lì con noi e per noi è stato bellissimo e sicuramente anche per loro è stato vivere un sogno proprio come per noi e questo è sicuramente una cosa impagabile. Ecco non solo sport ma anche tanto tanto amore abbiamo visto a questa Olimpiade di Parigi perché poi c'è stata anche questa proposta di matrimonio inaspettata sicuramente per noi telespettatori, per noi appassionati credo però anche esatto anche per voi, allora voi siete un gruppo ovviamente lavorate insieme ma siete anche un po' una famiglia perché condividete tutto, come avete vissuto anche quel momento lì della proposta di matrimonio al vostro capitano? Sì esatto, allora è stata una cosa veramente inaspettata perché in quel momento stavamo festeggiando la nostra medaglia e dieci minuti dopo è arrivato Massimo che era lì insieme a tutti i nostri fidanzati perché oltre alle nostre famiglie c'erano anche i nostri fidanzati che hanno creato un gruppo bellissimo e quindi quando è arrivato Massimo ho detto non mi dire che sta per succedere perché nell'aria c'era questa idea però nessuno se l'aspettava, nessuno lo sapeva quindi poi quando effettivamente ha chiesto all'Ale di sposarla insomma è stata un'emozione anche per noi inaspettata e sono troppo felice per loro, gli auguro una vita felice, piena di amore e di emozioni Ecco un po' la ciliegina sulla torta in conclusione allora torniamo alla te bambina, insomma torniamo indietro negli anni, parliamo di quanto hai iniziato di come ti sei approcciata a questo sport, soprattutto cosa ti tenti di dire alle giovani atlete? Io ho iniziato a nove anni quindi diciamo relativamente tardi per questo sport e è stato amore a prima vista nel senso che dal primo giorno ho messo piedi in palestra ho capito che era una cosa che amavo fare, è stata proprio questa la linea poi del mio percorso l'amore per quello che stavo facendo e la passione che non si è mai spenta che tuttora sento dentro di me e quindi diciamo che ogni bambina che si approccia e inizia questo percorso dico e voglio dire che innanzitutto bisogna sempre credere fortemente in quello che si vuole perché niente è impossibile, niente è irrealizzabile e insieme a una serie di cose quindi al lavoro, al sacrificio, allo spirito proprio sportivo quindi dare il 100% verso quello che si fa e con le persone giuste e un amore incondizionato per questo sport si può arrivare davvero dove si vuole Grazie